E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cattinara il motociclista 48enne coinvolto nel grave incidente avvenuto stamani intorno alle 9 e un quarto all'incrocio tra via Rossetti e via Buonarroti. Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia locale intervenuta sul posto, l'uomo era in selle alla sua moto BMW di grossa cilindrata. Quando è stato centrato da una Volkswagen Lupo, pare in seguito a una mancata precedenza condotta da un uomo di 77 anni che stava scendendo da via Buonarroti. L'anziano non si è accorto che lungo la via Rossetti in quel momento stava giungendo il motociclista. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento, secondo quanto riportato dai testimoni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in urgenza il centauro all'ospedale di Cattinara. L'incidente ha anche provocato problemi di viabilità con code e forti ralentamenti al traffico. La polizia locale ha dovuto chiudere la via Rossetti all'altezza di via Ginnastica per più di un'ora, riaprendola poco prima delle 11. Anche la linea 22 della Trieste Trasporti è stata temporaneamente deviata.